Un posto adatto per i ragazzi può servirgli a dargli la possibilità di poter esprimersi e di poter fare ascoltare la propria musica. È come andare in una palestra, cioè se vai in una palestra che non c'è il tapirulano, non c'è quello dei pesi, vabbè cosa vieni a fare? Ora costruiamo una palestra, una palestra dove chi ha voglia di venire a parlare, chi ha voglia di venire a fare musica, trova possibilità e disponibilità anche a livello di attrezzatura. Non è che ci manca tantissimo, abbiamo qui anche i pannelli, il fuono assorbente, cioè vuol dire che questo ci mancava, vuol dire che questi studi qui saranno finiti. Attraverso l'intreccio di figli fa venire voglia anche proprio di intrecciare relazioni, di creare amicizie, ci fa stare bene. Ogni donna si sente valorizzata, sia chi insegna, che insegna delle capacità, sia chi apprende, perché riesce comunque a dare il meglio di sé. Abbiamo anche partecipato al concorso Idea al Bando, abbiamo ottenuto una macchina da cucire, una fotocopiatrice, ma che si è proprio rivelata positiva, anche e soprattutto sul piano umano e relazionale. Questo è stato molto importante per noi. Inizialmente l'idea era solo una cosa mia, nel senso che ho nascosto, non la dicevo nessuno.